Musica Ci troviamo qui a Sabucedo, un piccolo paese nel cuore della Galizia, per assistere alla rapa d'aveste. Fra tutti i curros che si svolgono qui in Galizia durante l'estate, quello di Sabucedo si differenzia per avere conservato la purezza della tradizione. È l'unico curro nel quale si affrontano i cavalli da pari a pari, senza corde né pari, per immobilizzarli e tagliarli le triniere. Un modo di azione che si apprende da piccoli, è il modo che stabilisce la nobile e pericolosa lotta con gli animali per conseguire la vittoria. La rapa di Sabucedo si è sempre svolgito in recinto di pietra, detto curro, nel centro del paese. La fama della rapa di Sabucedo, una tradizione ancestrale, con forte componente rituale, ha ricevuto l'attenzione di antropologi e studiosi di tutto il mondo. Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.